Nella storia delle ferrovie italiane, tanti sono stati gli incidenti che hanno causato vittime e feriti. Ripercorriamo i disastri ferroviari negli ultimi vent'anni. 12 gennaio 1997. L'elettrotreno ETR 460 numero 29 in servizio da Milano a Roma deraglia sulla curva all'ingresso della stazione di Piacenza perché andava, troppo veloce. Muoiono 8 persone e 30 restano ferite. 7 gennaio 2005. Località Bolognina, Emilia Romagna. C'è molta nebbia e la visibilità in alcuni tratti non supera i 50 metri. Un treno interregionale proveniente da Verone diretto a Bologna con a bordo 200 passeggeri si scontra con un treno merci in arrivo da Roma sullo stesso binario. 17 i morti, 80 i feriti. 29 giugno 2009. Viareggio, Toscana. Il cedimento di un carrello di un vagone cisterna provoca il deragliamento di un treno merci. Da una cisterna danneggiata fuoriesce GPL. Mentre il treno si trova in stazione, il vagone esplode. Il bilancio della tragedia è terribile. 33 morti. 12 luglio 2016. Puglia. Tratto ferroviario tra Andri e Corato. Due treni della società ferro-tranviaria si scontrano sulla linea che collega Bari a Barletta. 23 morti. 57 feriti.